Vittorio Veneto in questo momento è un laboratorio politico, naturalmente la spaccatura della Lega Nord qui in città segnerà il passo per tutta la regione. La spaccatura nel centrodestra da una parte, il campo largo di PD 5 Stelle e Civici dall'altra. Le candidature di Gianluca Posocco, Giovanni Braido e Mirella Balliana fanno saltare gli schemi politici tradizionali. Anche se a poco più di due mesi dalle urne, secondo la candidata del centrosinistra sarebbe ora di parlare di contenuti e non di beghe e di partiti. Noi puntiamo a riformulare e rivedere tutto quello che non è stato fatto in città e quindi l'aspetto e le beghe interne della Lega Nord e divisioni le lasciamo a chi di dovere. Esponente del mondo civico, sostenuta dal Partito Democratico, Balliana lascia la porta aperta a tutti coloro che vogliano dare un contributo fattivo per far progredire Vittorio. Il Movimento 5 Stelle e anche i Verdi hanno aderito pur non avendo delle liste proprie, aderiscono a questo campo largo insomma. Io cerco di scindere l'aspetto politico dall'aspetto amministrativo, io vorrei fare un'amministrazione concentrata solo sulle questioni amministrative. L'idea che i big di PD e 5 Stelle possano fare capolino in città per sostenerla non entusiasma la candidata che rivendica la sua posizione civica. Penso di poter interpretare e sposare le sensibilità di tante persone, ripeto, a prescindere dal colore politico in cui credono.